Settimana scorsa siamo stati a Ortisei con i nostri insegnanti e dei miei amici dove abbiamo luttato scorsa una settimana dove abbiamo fatto molto tennis, attività di gruppo e atletiche con l'insegnante Fabio. Ci siamo divertiti tantissimo. Allora, cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo giocato a tennis tutti i giorni, tutta la settimana, abbiamo fatto varie attività, abbiamo fatto beach volley, abbiamo fatto calcio, abbiamo fatto badminton, abbiamo fatto baseball, abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo fatto il tono di ping pong, il tono di calcio balilla, le passeggiate, abbiamo fatto anche un bel giro per le montagne. Abbiamo fatto una gita che è durata mezza giornata in cui siamo andati al Monte Seceda, abbiamo preso il trenino per arrivarci da Ortisei e dopo una camminata siamo arrivati al bar e poi siamo scesi. Per l'atletica avevamo Fabio, mentre per il tennis ad insegnarci c'erano Manuela, Leonardo, Filippo e Jacopo. Il gruppo è stato bravissimo, sono stati veramente fantastici, dai più piccoli ma anche ai più grandi, si sono tutti comprati bene, tutti molto educati, molto tranquilli. È stata una settimana bellissima, c'era un ambiente sereno, si potrà chiederti meglio, davvero. Le sere facevamo molte attività di gruppo, per esempio una sera abbiamo fatto il torneo di ping pong, mentre l'ultima sera abbiamo fatto la discoteca, dove siamo rimasti fino alle 11 a ballare delle canzoni che ci hanno dato i maestri. 11 sicuramente, sono divertita tantissimo. Ah io ho 20, io ho 20, sono arrivata a casa domenica che ero un po' triste perché era un po' dispiaciuto di essere tornata a Milano. Non lo so. No poco, ne facciamo 5 dai, ogni tanto capitava ma raramente. Decisamente sì, alcuni mi chiedono di farne 2, 3, chissà magari. No.